Abbiamo voluto anche fare questa opera per raccordarci un po' con il paese di Mosciano che sta lassù, dove si svolge da qualche anno una bellissima manifestazione della street art e quindi così coinvolgiamo un po' la periferia anche del paese. Per fare questa opera abbiamo indetto un concorso, Diego Finassi che è l'artista che sta realizzando l'opera se l'ha giudicato, e lui viene da Brescia ma è rimasto colpito anche dal tema di questo concorso che avevamo indetto, appunto che l'opera doveva significare il bello, il design, un oggetto di arredamento e credo che siamo riusciti ad ottenere veramente un bel lavoro. Dici un po', giusto per farci un po' di conti, quante bombolette all'incirca ci vogliono per realizzare un Morales del genere? 80-100 10 metri per 10? 10 metri per 10 Quindi ti auguriamo un buon lavoro e sicuramente i telespettatori vorranno vedere con i loro occhi questa opera d'arte, perché la street art ormai è un'arte riconosciuta a tutti gli effetti e quindi noi invitiamo tutti a Mosciano Sant'Angelo. Bene, vi aspettiamo numerosi! Bene, rosi!